Dalla concorrenza alla collaborazione e questa l'idea che ha avuto Ilario Amato della Mondo Casa Immobiliare che ha pensato di riunire tutti i professionisti del settore immobiliare della città. Alla sua idea hanno risposto ben il 95% delle agenzie immobiliari cittadine insieme per avviare un rapporto di collaborazione che possa rendere più semplice e facile vendere ed acquistare immobili con indubbi vantaggi non soltanto per le agenzie immobiliari di Molfetta ma soprattutto per venditori e acquirenti. Un incontro che ha visto la attiva partecipazione di tutti i professionisti del settore di Molfetta che si sono dati delle regole per poter da lunedì stesso ricominciare a lavorare in maniera più proficua e collaborativa. Sono questi i temi discussi da Ilario Amato di fronte ad un uditorio attento come ha specificato nell'intervista che ci ha rilasciato al termine dell'incontro. Come nasce questa idea? Mettere in collaborazione soggetti che forse fino a ieri nemmeno collaboravano nemmeno si conoscevano tra di loro? In Italia ci sono molte località dove ha già preso piede questo nuovo modo di lavorare ma possiamo dire che ad oggi non c'è nessun posto dove è stato raggiunto un risultato straordinario del 90-95% di adesioni come è successo a Molfetta. Quindi come dicevo prima è una tipologia nuova di lavoro che stanno già utilizzando in altre località dell'Italia e che funziona e che produce risultati. Ecco perché lo stiamo riproducendo o riproponendo o proponendo anche a Molfetta. Quali saranno i vantaggi sia per gli agenti immobiliari che soprattutto per chi dovrà vendere e acquistare appartamenti? Possiamo dire che con dieci semplici regole tutte le agenzie immobiliari di Molfetta, tranne tre, passano dalla concorrenza alla collaborazione e da oggi per il cittadino vendere e comprare casa sarà più facile, veloce ed economico. Sicuramente regole anche più chiare per tutti quanti, quindi non ci sarà più bisogno di fare ricerche impossibili per trovare l'agente immobiliare migliore? Esattamente, praticamente uniformandoci tutti quanti, utilizzando dieci regole semplici come dicevo prima, tutti quanti potremmo dare un servizio più efficiente, più qualificato e più produttivo a tutti quanti, a tutti i clienti e a tutti i cittadini. Oltretutto in un mercato ricco, comunque numeroso come quello di Molfetta? Oltretutto, sì, sì, sicuramente sì. Io sono molto fiducioso, sicuramente questa alleanza tra le agenzie, tra i colleghi, tra i professionisti che operano nel settore immobiliare produrrà un risultato forte e produttivo ed efficiente nei confronti di tutti, degli operatori e dei clienti. Può trattarsi di un progetto pilota da esportare anche nelle città di Mitrofe? Sicuramente, io vi posso garantire che ci sono già degli altri colleghi che operano in altre località che sono venuti qui ad assistere a questo evento, a questo incontro perché sarà riprodotto nelle altre città. Siamo piloti, anche in Italia, perché ripeto ottenere un risultato del 95%, 90% di adesioni è straordinario. Non c'è nessun posto in Italia dove è stato raggiunto questo risultato.